Non devono chiamare i carabinieri, devono chiamare loro, i giovani. Caos ai servizi sociali per le richieste della SIA, card per il sostegno all'inclusione attiva. Si tratta di una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un sussidio economico attraverso progetti lavorativi alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali siano presenti persone minorenni, figli disabili o una donna in stato di gravidanza. Come stabilito dal governo centrale, il progetto viene predisposto dai servizi sociali del comune in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole. In molti però si sono recati agli uffici dei servizi sociali del comune di Giuliano in via Nello Palumbo lamentando malfunzionamenti nelle procedure. Come spinta la domanda? Con tre figli mi hanno dato 10.100 di... Il CAF non erano informati di come, modalità, tempistica e perché di questa carta sia. Il CAF compilavano le domande allo sbaraglio. Dopo di ciò le domande risultavano non coerenti con i requisiti. Alla fine domanda reggettata. Ma non perché non ho diritto di averla. È perché chi? Gesù Cristo deve scendere dal cielo per informarmi di ciò. Questo è con ogni cosa che si fa qui. Non è solo carta sia. Io non posso, avendo i figli, andare avanti e indietro per tutta questa madonna di iter tra l'Inps, comune, servizi sociali, il CAF. Il punteggio non l'avete avuto signore? Perché io non ho punteggio? Ho disabile 100% a casa. Ho due minori. Non sono scelte i punteggi, ma finiamo quando abbiamo fatto il 4-7 punteggi, non sono scelte i punteggi. Però io mi si dici no, signore, il vostro figlio è una vera cosa. Però lo faccio. Ma perché non mi ha fatto fare provi? Vedi anche provi. Signora, l'Inps vi ha detto che potete accendere mentre il comune no? Eh, io ho le prove, mi ho fatto dare le prove da loro. Mi sono candidata a lei. Fai le direi, mi sono candidata a lei. Mi hanno accettato. Mi hanno accettato. Dall'amministrazione comunale fanno sapere che l'Inps a stabilire chi ha i requisiti per essere ammesso al progetto e che i servizi sociali funzionano solo come sportello. Nell'analisi di molte delle richieste, oltre mille quelle giunte da settembre ad oggi, ci sarebbero però discrepanze tra le informazioni contenute nei due portali informatici, quello degli uffici comunali e quello dell'ente di previdenza. L'intoppo potrebbe dipendere quindi da un problema di software e la situazione potrebbe diventare più chiara tra un paio di giorni, dopo aver incrociato i dati di Inps e servizi sociali.